La crisi idrica è perdurante e sulla questione interviene il CONSAC che gestisce il servizio idrico in 57 comuni tra Cilento e Vallodidiano. Dall'ente sottolineano come grazie ad una politica previdente e attenta il territorio servito non è stato colpito dalla riduzione di acqua. La diffusa presenza e l'aumento del numero di pozzi assieme all'uso di potabilizzatori spiegano ha scongiurato un'emergenza che in altre regioni è molto presente. Con una saggia programmazione l'ente ha saputo muoversi bene anticipando i tempi e tutelando così l'area di competenza. Tutto nasce da un'altra crisi, quella del 2017, un vero e proprio campanello d'allarme su quello che poteva accadere in termini di scarsità idrica, da lì la costruzione di nuove condotte, sistemi di pompaggio con pozzi e sistemi di potabilizzazione nei vari comuni. Le sorgenti ora segnano il minimo storico, meno 60-70% e il loro recupero sarà molto lungo nonostante ciò il CONSAC non ha mai realizzato interruzioni o chiusure del servizio grazie ai sistemi che hanno integrato l'acqua. Non è possibile conoscere, dicono, quale sarà la criticità delle sorgenti ad agosto ecco perché la prevenzione e l'uso misurato è fondamentale, sarà oggetto di comunicazione ufficiale dell'ente a tutti i comuni del CONSAC perché una campagna di sensibilizzazione è indispensabile per far capire ai cittadini come sia preziosa l'acqua e che con la sua riduzione tante realtà sono a rischio. Non si sono avvertite mancanza di acqua ma ci sono delle regole da seguire. Bisogna innanzitutto evitarne l'uso improprio come ad esempio irrigare con acqua potabile i campi o lavare le strade. L'auspicio dicono di aumentare i piccoli invasi, il riuso delle acque è importante, puntare in agricoltura sulle tecnologie di precisione 4.0. Nell'industria bisognerebbe utilizzare l'acqua di depurazione. A giugno 2023 l'Italia riceverà una sanzione proprio per il non utilizzo di queste acque. In conclusione, emergenza sì ma sottolineano anche investimenti con fondi del PNRR già stanziati.